Qui veniva Federico Fellini ad ordinare i suoi tortellini in brodo aggiungendo un bicchiere di whisky, il suo personale tocco. Oggi questo luogo si chiama Al 59 a Via Brunetti a Roma, a due passi da Piazza del Popolo. Totalmente ristrutturato lo guida lo chef Alberto Colacchio con un ricco menù ispirato alla tradizione culinaria romana ed emiliana. Tanti vip all'inaugurazione del 16 settembre a testimoniare un inizio folgorante che non vede l'ora di essere replicato dai suoi clienti.